Rocco, andiamo su! Buonasera a tutti, 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 buonasera, buonasera, allora, ma vi dico un'altra cosa, questi documenti qua, sapete perché ora ce li abbiamo e stiamo stracciando questo contratto? Erano segretati, erano incredibili, è certo che erano segretati, facciamoglielo vedere, era segretato, venite qua, vi voglio far vedere, questa è la prima classe dell'aereo, io non so, credo di non aver mai viaggiato con un aereo così grande, anche il di linea, è difficile, qui ci sono, salve, salve, qui c'è un'altra parte che credo sempre prima classe sia, non so riconoscerla bene, poi prosegue l'aereo perché non è finito qua, questo è un altro reparto nel quale c'è un'altra prima classe, poi qui immagino che inizia l'economy, non lo so, ci sono 300 posti a sedere in questo aereo, ma continua, non è finita, non è finita, questo hanno pagato 150 milioni di euro per viaggiare, non so, forse con un intero comune, non vi so dire quali erano gli intenti di questo Presidente del Consiglio, continua ancora qui, guardate quanto è lungo, noi siamo ancora nello stesso aereo, cioè non è un edificio, è un aereo, immaginate quanto è grande, e tra...